La folgore smette di combattere. Il tenente Lenci. 6 novembre 1942. Da El Alamein, sabbia d'intorno, roccia nel cuore. Di Francesco Fagnani. Alle prime luci dell'alba del 6 novembre 1942 vennero distribuite una galletta e una scatoletta a testa. Arlunno, mio commilitone, era molto taciturno. Si passava lentamente la carne in scatola da una mano all'altra. Mi fissava mentre cercavo di aprire la mia. La sua voce mi arrivò da dietro. «Pè lì, prendi pure questa. Tu sei giovane, hai una vita davanti. Mangiala tu, a me non serve». Il tono della voce era diverso dal solito, quasi rassegnato. Sicuramente non era il suo modo abituale di rivolgersi ad un altro. «Mario, facciamo almeno un po' per uno», risposi. Cominciò a scuotere lentamente la testa. Le parole uscirono a stento mentre i suoi occhi, infossati dalla fatica, mi fissarono. «Nessuna espressione del viso, come se fosse lontano nel tempo e nello spazio». Dopo un attimo che mi parve interminabile, con un tono bassissimo, ripetei «Mangiala tu, io non ne ho più bisogno». In seguito mi convinzi che quell'uomo aveva avuto una premonizione della sua morte imminente. Poco dopo ci raggiunse il tenente Lenci, sempre infaticabile nel cercare di essere vicino nei momenti critici ad ognuno di noi. Mi rivolse uno sguardo rassicurante e passò oltre. Tornò sui suoi passi, venendo di nuovo verso di me e ci tenne a dirmi «Pelliccia, so che tu avresti dovuto già da tempo essere sergente. Appena rientreremo alle nostre linee ti prometto che prenderò avanti la tua pratica e la seguirò di persona. Te lo meriti, ragazzo». Appena la luce aumentò ci rendemmo conto di essere soli. Ci guardammo intorno e scoprimmo di essere rimasti davvero in pochi. Le incursioni nemiche si intensificarono. Alcune ore dopo fumo circondati da blindati che aprirono il fuoco a distanza. Eravamo comunque tutti determinati a non arrenderci. Cominciamo a ribattere alle raffiche con dei diri solati, risparmiando i pochi colpi che erano rimasti. Gli inglesi ci invitarono nuovamente alla resa, portandosi nel frattempo più vicini. La risposta all'ennesima offerta fu uno straordinario boato. Folgore che racchiudeva tutta la forza della nostra rabbia. L'urlo si spense cheggiando nella piana del carita, talmente potente da far indetriggiare ancora una volta i blindati che evidentemente continuavano a temerci. Sull'onda dell'entusiasmo disperato che si era creato, molti si strinsero al capitano Cristofori, gridando «Capitano, non ci arrendiamo! Abbiamo ancora le bombe a mano!». Mentre Cristofori si guardava intorno per valutare la situazione, i britannici decisero che era ora di farla finita. Velocissimo, un gruppo di brain carrier si staccò dalla formazione nemica e cominciò a pirouettare intorno a noi, dirigendoci precise raffiche di mitraglia e sollevando nuvole di polvere. Dall'alto lato la mitragliatrice poteva bersagliarci a piacimento. Non c'era nessun riparo, nessuna protezione. Quello fu l'unico momento in cui ebbi paura. Mi gettai a terra cercando l'inutile copertura di un arbusto. La bocca nella sabbia cominciai a chiamare sottovoce «Mamma», mentre intorno a me si bilavano i proiettili. Sentii una specie di martellata tiratami da qualcuno con forza contro il piede sinistro. Subito dopo, un dolore lancinante. Guardai verso l'estremità della gamba e vedi che mi mancava la parte esterna della punta dello scarponcino. Dal buco della calzatura fiottava del sangue di intermittenza. Non c'erano infermieri. Cercai pertanto di impedire il contatto fra la sabbia e la ferita. Infilai nel foro una pezza che avevo in tasca e la premetti dentro la scarpa. Subito si tinse di rosso. Gli inglesi nel frattempo avevano cessato il fuoco. Le blinde di Brain Carrier ci avevano circondato, ormai a pochissima distanza. Era finita stavolta. Finita davvero. Quello che accadde dopo merita di essere raccontato. Seduto a terra vidi i miei camerati a alzarsi in piedi uno ad uno. Chi si rassettava all'uniforme. Chi si guardava intorno cercando volti amici. Chi tirava un profondo respiro. Un paravvicino mi aiutò a sollevarmi e mi sostenne. Sui nostri volti, temprati dal deserto e dai combattimenti, presero a scorrere le lacrime. Quel pianto era inconsciamente una forma di condivisione delle nostre sofferenze. In quel patimento profondo era insito tutto. L'afflizione per una sconfitta arrivata senza aver ceduto un metro al nemico. Il ricordo delle prove sovraumane sostenute. L'ostruggente pensiero e gli effetti lontani. La reminescenza lontana dei giorni duri e spensierati di Tarquinia. C'era il pensiero della nostra patria e ai compagni, lasciati nel deserto per sempre. Complice alla forte calura, le lacrime si seccarono in pochi istanti. Quelle gocce, però, avevano avuto il tempo di tracciare nella polvere che si incrostava il viso strani solchi, ognuno dei quali aveva lasciato una stratura salata. Alla fine dell'ultimo scontro, nella sabbia, gecevano, a poca distanza da me, cinque o sei caduti. Fra i corpi riconobbi Mario Arlunno, riverso su un lato, e poi il gioviale caporal maggiore Amerigo Pignatelli, che aveva smesso di sorridere per sempre. E il parà, Paolo Gregorio. Con una fitta al cuore vidi riverso anche il tenente Gaetano Lenci. C'era da Sissero un sottotenente della compagnia comando. Il mio comandante di Plotone non era ancora morto, dava inoltre l'impressione di sussurrare qualcosa all'altro che ci stava sostenendo il capo. Per un attimo ebbi come la sensazione che Lenci mi stesse fissando. In quel momento mi separarono dai miei camerati, per condurmi ad una camionetta poco lontana con la croce rossa sul fianco. Feci però in tempo rivolgere un'ultima occhiata al tenente. Vedi il suo braccio teso verso di me. L'arto era in preda a spasmodiche contrazioni. Il disperato tentativo da parte sua di un estremo gesto di saluto o semplicemente la vita che ne abbandonava il giovane corpo. Nessuna bandiera bianca era stata alzata. Non c'eravamo arresi. Avevamo semplicemente dovuto smettere di combattere. Grazie a tutti.